Buongiorno, buon martedì 20 marzo. Ben trovati con l'edicola di 696 TV. Andiamo subito insieme a sfogliare i quotidiani nazionali. Partiamo da Repubblica. L'apertura è dedicata alla politica e si parla del nuovo governo che ormai è in via di formazione. Salvini tenta il blitz sulle camere. Titola appunto Repubblica. Ingrandiamo per leggere insieme il sottotitolo. Il Senato dice alla Lega, Movimento 5 Stelle a Montecitorio, ma Forza Italia è in rivolta. Intanto Mattarella commenta che non esiste un partito del colle. Del Rio dice che il PD non cambia linea, deve rimanere all'opposizione. Nel sud intanto parte la fuga da Berlusconi. Quindi davvero questo voto politico del 4 marzo ha letteralmente stravolto gli equilibri della politica in Italia. Con tutti gli schieramenti che sono letteralmente saltati almeno nelle coalizioni che abbiamo imparato storicamente a conoscere. Intanto continuiamo ad andare all'interno per approfondire le notizie. Grillo non ferma Di Maio, Movimento 5 Stelle a Lega intesa sempre più vicina. Passi avanti sui nomi per Montecitorio e Senato. Il capo del Movimento apre ad una squadra di governo diversa e cita l'intervista del fondatore. Noi sappiamo migliorarci ed adattarci. La vignetta di LK per ironizzare su Di Maio commosso San Gennaro ha fatto un altro miracolo. Gli impresentabili dei 5 Stelle non sono più impresentabili. Quindi non manca la satira politica. Nell'altra apertura di pagina 3 su Buongiorno al Senato, Salvini sfida Berlusconi. Il patto che vuole la leghista a Palazzo Badama e il fraccaro alla Camera mette in crisi la coalizione. Forza Italia dice Vogliamo Romani. Insomma, il partito di Berlusconi continua ad alzare il tiro su richieste possibili arrivi a Prodi tra Senato e Camera. Intanto il Quirinale. Non esiste un partito del Presidente. Consultazioni dal 3 aprile. Mattarella irritato dalle voci di pressing sulle forze politiche, sul PD in particolare. Ricostruzioni che suscitano ilarità. Davvero c'è tutta la rabbia, insomma, i primi nervosismi del capo dello Stato per quel governo che ancora non prende forma in maniera netta. Andiamo avanti. Consultazioni al Colle. Ecco l'agenda. 3 aprile. Si parte con Napolitano. È il primo ad essere ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella nello studio alla vetrata. Per le consultazioni sarà il Presidente Merito, Giorgio Napolitano. Nello stesso giorno toccherà ai nuovi Presidenti delle Camere che saranno eletti dal Parlamento, verosimilmente la prossima settimana. Il 5 aprile. Continuiamo a guardare insieme lo scadenziario del governo. Sarà la volta del capogruppo di partito, Lega Forza Italia, Fratelli d'Italia. Il capogruppo alleghista alla Camera sarà Fedriga, Brunente e Romani, Forza Italia, il giorno prima, il 4 aprile. Toccherà invece ai gruppi misti di Camera e Senato di Liberi Uguali e delle minoranze linguistiche. Continuiamo a guardare l'agenda del governo, quindi 6 aprile, Partito Democratico. Dopo il centrodestra toccherà quindi ai capigruppo del Partito Democratico presentarsi al cospetto di Mattarella. Il PD dovrà scegliere nelle prossime giornate i propri capigruppo. Il PD ha fin qui sostenuto di non essere disponibile ad entrare a far parte del futuro governo. 7 aprile tocca ai 5 stelle, proprio al partito più votato, confrontarsi con il capo dello Stato. L'8 aprile il presidente Mattarella si prenderà probabilmente una giornata di riflessione, quindi intorno al 9 aprile il Quirinale potrebbe affidare l'incarico esplorativo per la formazione del nuovo governo. Quindi c'è ancora tanta attesa per conoscere i nuovi nomi e soprattutto le nuove cariche del governo. La carica dei debuttanti 5 stelle, Dessì subito riabilitato, il Senato apre per la registrazione dei neoeletti. Addio Sandali. Tra i grillini molti vengono dal mondo delle professioni, al movimento gli uffici dell'ex DC. I trampiani negli stessi uffici con Cambridge e Facebook. Parliamo adesso del caso dei profili rubati. Aperta un'inchiesta, l'azienda di Zuckerberg crolla in borsa, il capo della sicurezza dati andrà via. La società inglese è accusata di aver acquisito illegamente dati personali da 50 milioni di utenti nel 2015 e arrivano nelle proteste dell'Unione Europea. Non c'è solo in campo il futuro dei dati, ma andiamo ragazzi a casa del candidato e usiamo le spie. Gli ex agenti dell'intelligence britannica hanno raccolto scheletri nell'albadio e se ne sono andati senza lasciare traccia. Quindi questo è il caso diventato davvero internazionale. Continuiamo con Repubblica Nazionale e Stati Uniti, travolto un pedone da un'auto alla guida autonoma. L'incidente a tempo in Arizona, la vittima una donna è morta dopo il ricovero in ospedale, Uber sospende i testi in tutte le città e indaga per capire dove ha sbagliato il pilota automatico, la scena dell'incidente che ha coinvolto un'auto Uber guidata a tempo in Arizona. Quindi davvero una storia drammatica che parla di progresso, che diventa regresso, come vedete appunto un pedone è stato investito. Poi il rapporto di maxi colata di cemento e l'Italia perde terreno, parliamo della pioggia di asfalto che letteralmente stravolge in un anno 5.000 ettari di territorio ma nell'annuario dell'ISPRA ci sono anche segnali positivi. Il consumo del suolo prosegue ma rallenta rispetto al passato e anche le emissioni di gas serra sono letteralmente crollate dal 1990 fino ad oggi. Queste quindi le questioni internazionali ma da Repubblica Nazionale passiamo a Repubblica Napoli per guardare insieme le notizie che arrivano dalla campagna uccisa davanti alla scuola della figlia. Caccia al marito, mi farò giustizia, lo ha detto almeno in 20 lettere che sono state trovate. Pasquale Imma, una storia interrotta, due anni di liti e una denuncia che risale a pochi giorni fa. La donna aveva denunciato presunte violenze e soprattutto liti furibonde con quest'uomo che ieri mattina sarebbe andato davanti a scuola dove la donna aveva appena accompagnato i figli appunto per entrare in classe e ha sparato per poi allontanarsi a bordo di uno scooter. Ora è caccia all'uomo tra Terzigno e Bosco Trecase. Gli aggiornamenti dell'ultimo minuto online parlano appunto di ricerche serratissime nelle campagne tra Terzigno e Bosco Reale e Bosco Trecase per trovare l'uomo che forse ha ucciso sua moglie. Vediamo. Ancora una volta Terzigno, ancora una volta una donna uccisa per mano del marito. Immacolata Villani è stata uccisa questa mattina con diversi colpi d'arma da fuoco davanti alla scuola elementare di Viapini a Terzigno. La donna, 31 anni, originaria di Bosco Reale, aveva appena accompagnato la figlia a scuola. A spararle sarebbe stato il marito che tuttora è ricercato dai carabinieri. L'uomo Pasquale Vitiello è fortemente indiziato per una serie di elementi. Uno di queste è una lettera che avrebbe lasciato nell'abitazione di famiglia, dove c'era scritto l'intento omicidia, promettendo di farsi giustizia da sé. Tra Vitiello e la Villani era in corso la separazione. I due non vivevano più insieme dallo scorso 4 marzo. Quella sera una discussione in presenza della figlia si trasformò in un acceso confronto tra marito e moglie, fatto di calci, spintoni e insulti, al quale, secondo la denuncia presentata ai carabinieri, avrebbe preso parte attivamente anche la suocera di Immacolata. La donna raccontò tutto nella querela presentata ai carabinieri, cui fece seguito a una controquerela presentata dalla suocera. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna era uscita dalla scuola dopo aver accompagnato la figlia ed è salita in auto, all'interno della quale sembra ci fosse un'altra persona. Alla vettura si è avvicinato un uomo a bordo di uno scooter che le ha intimato di scendere perché dovevano parlare. Poco dopo, mentre discutevano sotto la pioggia, si è sentito uno sparo e l'assassino è scappato. Vitiello è figlio di un direttore di banca, lavora nell'indotto della Lenie, l'azienda aerospaziale. Intanto la bambina di 9 anni ancora non sa della morte della madre. La piccola sta ricevendo l'aiuto dei servizi sociali del comune che cercheranno, con tutta la delicatezza richiesta dal caso, di informarla della tragedia. E appunto come vi anticipavo anche dall'ultimo giro di cronaca che abbiamo fatto in redazione con i colleghi, nessuna traccia ancora dell'uomo si cerca nelle campagne del Vesuviano, inseguendo le celle a cui si aggancerebbe il cellulare dell'uomo. Intanto andiamo avanti, continuiamo a sfogliare Repubblica, andiamo a vedere l'approfondimento dedicato ad Imma, questa donna uccisa, forse l'ennesimo femminicidio, vedete la foto centrale del dramma consumato davanti a scuola, i bimbi sono stati fatti uscire da una parte laterale dell'istituto proprio per evitare che vedessero il cadavere della donna adagiato al suolo, coperto da un lenzuolo, in attesa del medico legale, poi l'assistenza psicologica alla ragazzina che pare non sia ancora stata informata e stata isolata del tragico decesso della mamma. Sopra vedete, guardiamo insieme bene i volti, Imma, la donna uccisa e il suo compagno che l'appunto avrebbe sparato, Pasquale Vitiello, sparito dopo il dilitto e tutti gli indizi porterebbero a lui. Basta fango sui miei familiari, ora ritrovate il caso, l'appello del figlio di uno dei tre scomparsi in Messico. Sono convinto che siano vivi, ma se fossero morti, che almeno ci restituiscano i corpi. Il dramma dei tre napoletani scomparsi a Tecalitlano, uno stato messicano, in cui sono letteralmente spariti nel nulla tre napoletani, ricordiamo i nomi, Antonio e Raffaele Russo e il parente Vincenzo Cimmino. Disperati appelli, le donne che minacciano di raggiungere letteralmente da sole il Messico e le accuse alla farnesina che sarebbe, secondo i parenti, facendo poco per ritrovarli. E su di loro l'ombra pesante della polizia corrotta, che le avrebbe venduti, pensate, per 150 euro, ad un cartello messicano, uno dei più cruenti di tutto il territorio. Adesso apriamo lo speciale sull'omicidio del guardia giuriata Franco della Corte, massacrato con colpi alla testa il 3 marzo di notte davanti alla stazione metro di Piscinola. Dopo 13 giorni di agonia Franco della Corte è morto, ora le confessioni dei killer, sono baby killer, adolescenti, che dicono abbiamo sbagliato, siamo pentiti. Dopo tre ore di udienza, il giudice avallone, guardiamo insieme l'approfondimento, manda i tre ragazzi nel carcere minorine. Poi ci sono i sommarietti di Repubblica che isolano i momenti salienti, un atto crudele, come dice il GIP, uno spinello fumato prima di compiere il brutale gesto, non volevamo ammazzarlo. E soprattutto il sogno di uno di loro, che pare fosse una promessa del calcio. Loro vengono dal quartiere cosiddetto Pippotto, gli assassini del vigilante e si parliamo dell'inferno, dei grattacieli di Piscinola. Ma soprattutto quella di ieri è stata la giornata del rimpallo delle accuse. Da un lato i familiari dei baby assassini si giustificano, dicendo che non è colpa loro che i ragazzi sono stati cresciuti, sicuramente dando il massimo delle proprie possibilità. Dall'altro i parenti dell'uomo ucciso, che dicono nostro padre è stato ucciso due volte, perché sono troppi i commenti sul social che addirittura giustificano i familiari di questi assassini giovanissimi. Sentiamo. Si terranno domani i funerali di Franco Della Corte, la guardia giurata della Security Service uccisa da tre minorenni. Oggi la convalida del fermo per i tre ragazzini. L'eseque intanto si terranno domani pomeriggio a Marano, la città in cui risiede la famiglia Della Corte, in cui è stato indetto il lutto cittadino. Bisogna dare ampio spazio alla scuola a riconoscere alla famiglia quel ruolo primario che la Costituzione le assegna. A dirlo il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero Derao, che l'ha detto stamattina a Dercolano in occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, commentando appunto l'aggressione del vigilante ad opera dei minorenni. Ci dobbiamo domandare perché il rapporto genitori-figli sia scalfito al punto dal non far emergere una realtà, quella di figli che tentano di affermarsi nella società usando la violenza. ha commentato Derao. Intanto chiedono perdono ai parenti dei baby assassini. In una lettera aperta il cugino di uno dei ragazzi, che ha aggredito il vigilante, dice chiediamo umilmente perdono alla famiglia di Della Corte. Noi siamo brave persone, i ragazzi devono pagare, ma noi familiari non siamo colpevoli. Ma la rabbia dei parenti e dei familiari della guardia giurata uccisa è davvero tanta, è come se mio padre fosse morto per la seconda volta. Lo ha detto Giuseppe, il figlio di Della Corte, commentando i messaggi di solidarietà che intanto piovono sul web per i presunti assassini e i loro parenti. E questo è lo strazio dei parenti di Franco Della Corte, 52 anni, ucciso. Ma adesso apriamo la pagina della politica. Martina Striglia, il Partito Democratico, puniti per gli errori su sud e lavoro. Guardiamo insieme quanto dice il segretario reggente a Fuorigrotta tra la rabbia dei militanti, Napoli, cruciale, si riparte da qui. Questo quanto riportato dall'inviato Roberto Fuccillo, l'Assemblea dei Dem e Maurizio Martina che interviene dal palco del dopolavoro a Piazzale Tecchio davanti ai militanti PD di Fuorigrotta. Poi c'è il Movimento 5 Stelle in campagna, quindi calibriamo la politica sul territorio campano. legge due deputati da Piemonte e Calabria. La Cassazione chiude il caso dei troppi seggi scattati a fronte dei nomi disponibili. Recuperato Maione del Movimento 5 Stelle, una notizia che arriva direttamente da Benevento Città, intanto si litiga in forza Italia. Neodeputato, la Cassazione, appunto, vediamo il personaggio tutto campano, Pasquale Maione, uno dei nomi per completare la squadra dei 5 Stelle. era il numero 3 nel compleggio proporzionale Campagna 2. Questa la resta dei conti che fornisce un nuovo nome, un nuovo seggio al partito più votato, quello del Movimento 5 Stelle. Intanto su ANM il sindaco nomina Pasquale, l'amministrazione dell'azienda e capo staff dell'assessore calabrese scelto tra 36 candidati. Ora si punta al gioco di squadra. Il nuovo manager per garantire la salvezza dell'azienda dice serve contenere i costi e soprattutto farà crescere i ricavi. Quindi si punta ad un sistema integrato che assicuri il pagamento del ticket per tutte le persone che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico nella città di Napoli e provincia. Intanto sentiamo il servizio di Rossella Strianese della giornata cruciale, soprattutto per fare il punto sulla nuova nomina appunto del vertice dell'azienda napoletana Trasporti. Vediamo. L'accordo col governo che si accolla il 77% del debito del CR8 non basta ad evitare il dissesto. Ci sono ancora le sanzioni da pagare e le casse di Palazzo San Giacomo sono profondamente in rosso. Ma questa situazione, secondo il sindaco, non è da imputare alla sua amministrazione, ma ad una regia occulta, qualcuno che ha operato scientificamente per farci andare in dissesto e fermare la rivoluzione napoletana. Lo scrive il sindaco in un lungo post su Facebook e aggiunge ho le prove e quindi non taccio. Non hanno raggiunto l'obiettivo perché non abbiamo mai smesso di difenderci e combattere per la città e il suo popolo. Siamo i danneggiati e le vittime, ma paghiamo come se fossimo i colpevoli, la più feroce delle ingiustizie, scrive ancora De Magistris, che annuncia il prossimo 14 aprile una manifestazione indetta proprio dal Comune. La piazza Municipio conclude verrà dato un mandato popolare forte ad un'ampia delegazione che mi candido a guidare, che si recherà nella settimana successiva a Roma per incontrare deputati e senatori di tutti i gruppi politici affinché si mettano in campo immediatamente tutte le azioni per fermare il veleno sociale del debito illegale. Governo e Parlamento hanno gli strumenti per intervenire e lo dovranno fare, conclude minaccioso il post del sindaco. Nel frattempo, proprio oggi, con decreto, De Magistris ha nominato il nuovo amministratore unico di ANM, l'azienda dei trasporti di Napoli, sarà Nicola Pascale, ex capo staff della mobilità al Comune, a prendersi l'onere di guidare la partecipata più indebitata di Napoli. E adesso apriamo la pagina del mattino di Napoli, appunto, trasporti più cari, crolla il servizio, De Magistris, sceglie il nuovo manager ANM e il capo staff dell'assessore calabrese, Nicola Pascale, come abbiamo visto, fra l'altro, una vellinese. Intanto, PD, processo a Martina, nomi calati dall'alto, segreteria, De Luca prova a farsi la corrente e ha sciolto le riserve il sindaco De Magistris, quindi, appunto, sul nuovo amministratore. Intanto, una curiosità che va letteralmente fuori argomento, ma riguarda Napoli, la grande guerra del tunnel borbonico. Parliamo, appunto, di galleria borbonica, vedete, appunto, il presidente dell'associazione Minin che mostra un reperto bellico tra i cunicoli, una bomba pensata del 1915-18 di quella guerra che è riaffiorata dalla galleria borbonica, una delle attrazioni di Napoli sotterranea, quella più in voga attualmente nel capoluogo partenopeo. Andiamo avanti, continuiamo a sfogliare il mattino di Napoli. PD, incalzato da Martina, troppi nomi dall'alto. Le nomine non convincono l'equilibrio all'interno del popolo dei dem. Guardiamo insieme la sintesi, l'affondo. Alcuni militanti alzano uno striscione, salviamo Napoli da De Magistris. La polemica, Cam Mardella, i dirigenti del PD si sono mossi come degli elefanti su una cristalliera, era quella delle liste. E poi ancora, la debacle, Amato dice, è un miracolo se non siamo andati peggio con le divisioni del congresso. Intanto, De Luca prova a crearsi una propria area. Obiettivo prioritario, una tregua interna che garantisca solidità di intenti. Andiamo avanti. La violenza brutale, la morte del vigilante, pestarono Gaetano, parliamo sempre di violenza minorile, il PM ottiene il giudizio immediato. Cercava una rissa, nel mirino ci finì un quindicenne, uscito dalla metro con i due cugini. Il raid registrato dalle telecamere. A giugno, la prima udienza per i nuovi baby aggressori, prove e responsabilità fin troppo evidenti. Un'indagine su cui si è calato in prima persona il questore di Napoli, Antonio De Jesu. Ripensare il rapporto tra genitori e figli, il procuratore antimafia De Rao dice i ragazzi servono modelli positivi. Gomorra non le è, infatti dice addirittura leggano delitto e castigo, solo così possono crescere. Oggi intanto i funerali a Marano e soprattutto la riflessione del procuratore antimafia che invita davvero famiglie e società a riflettere su ruoli e decisioni importanti. Soldi in cambio di patenti, l'inchiesta e il blitz. Vengono coinvolti gli imprenditori e sono 16 indagati. Il mattino pubblica i nomi, ci sono funzionari di prefettura, poliziotti e 16 enti avvocati. Ecco la nuova realtà che riporta Leandro Del Gaudio in questo nuovo scandalo che travolge Napoli. Ancora avanti, la maestra è violenta, l'accuso delle mamme e bimbe, una denuncia presentata alla dirigente e ai carabinieri, soprattutto un caso di presunta violenza tra i banchi di scuola, uno di quelli che fanno indignare. Le madri dell'insegnante avrebbe, secondo le madri, la madre, l'insegnante avrebbe insultato e addirittura preso a schiaffi i piccoli studenti. Intanto all'Ikea assalto con i mitra, banditi in fuga con 110 mila euro, ad Afragola sei incappucciati hanno cerchiato il vigilante e hanno rubato anche le loro pistole, si sono appostati all'ingresso e li hanno rapinati in una manciata di secondi, una notizia che ha fatto davvero molto clamore nel napoletano. Il Cardarelli intanto torna sotto assedio dei pazienti trasferiti. Pronto soccorso in tilt per 250 ricoveri al giorno. Scatta un nuovo stato di crisi e ci sono tante tensioni e proteste tra i dipendenti che si dicono davvero esasperati. Queste le notizie che arrivano da Napoli ma ci spostiamo sulle altre prime pagine per una veloce sintesi di quanto accade nelle altre province. Partiamo da Villino. Parliamo della Lioni Grotta. C'è stato letteralmente un assalto nel cantiere. raid a Frigento danneggiati 11 mezzo di lavoro e 3 container e spunta inquietante l'ombra del racket vengono distrutti i vetri delle cabine e degli scavatori colpite 5 ditte indagano i carabinieri ma sentiamo la sintesi della collega Paola Iandolo. è giallo sull'attentato avvenuto nella notte a Frigento i gnoti si sono introdotti nel cantieri della Lioni Grotta Minarda danneggiando 11 mezzi e 3 container i malviventi si sono introdotti all'interno del piazzale e hanno rivolto le loro attenzioni ai vetri di ruspe scavatori e altri mezzi di lavoro mandandoli tutti in frantumi un episodio inquietante accaduto alla località La Quarta non molto distante dal santuario della Madonna del Buon Consiglio sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Mirabella e Clano le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile di tale gesto che potrebbe nascondere risvolti particolarmente inquietanti al momento la pista più seguita è proprio quella del racket l'opera di realizzazione dell'arteria è molto importante la Lioni Grotta Minarda è un intervento da 43 milioni di euro la strada assume un valore strategico per la mobilità territoriale in quanto collega la 3 alla 16 è resta alto l'allarme criminalità in Irpinia come ha rimarcato il comandante provinciale dei carabinieri di Avellino Massimo Cagnazzo durante un convegno sulla legalità organizzato al liceo colletta del convitto nazionale di Avellino il colonnello ha sottolineato che la criminalità è presente ovunque non solo a Napoli e questi episodi lo dimostrano pienamente infatti si tratta in ogni caso di un gesto gravissimo e preoccupante un probabile segnale inquietante da parte della criminalità in un territorio appetibile interessato da quest'opera di grande importanza economica queste le notizie dall'Irpinia ma apriamo le notizie che arrivano dal sagno apertura dedicata alla politica poker 5 stelle maione deputato il quarto dopo De Lucia Ricciardi e Janaro Leonardo Forza Italia e del basso del PD completano la squadra dei sanniti al governo il pentastellato di Airola ripescato con l'attribuzione dei seggi eccedenti sguerra e farese è un trionfo totale quindi davvero debacle degli altri partiti rispetto al triunfo pentastellato cronaca trovato morto in auto chat e telefonata era GX la scoperta domenica mattina a San Martino sannita l'ipotesi privilegiata resta quella di un overdose ascoltati parenti e conoscenti e si indagina sulle ultime ore della vittima ancora cronaca sorpreso a Contrada San Vito all'alt con droga soldi è scattato l'arresto di un cittadino sannita che viaggiava appunto senza rispettare l'alt delle forze dell'ordine ma da Benevento andiamo a vedere insieme la pagina provinciale dedicata a Caserta del mattino apertura a grandi passi verso il dissesto bis attesa la decisione della Corte dei Conti sul riequilibrio ma una bocciatura già c'è stata il comune l'ente non è riuscito a risollevarsi così le tasse locali resteranno sempre troppo alte addirittura al massimo ma tanto anche la cronaca a Caserta shock ai campetti una coppia rapinata due volte in pochi minuti i fidanzati prima scippati da un immigrato poi aggrediti da altri due che avevano fatto finta di soccorrerli lui ferito più volte attestate dopo il secondo ride la polizia ha catturato i malviventi una storia davvero agghiacciante che parla di un doppio reato con le stesse vittime nel giro davvero di pochissimo tempo intanto nella parte bassa il teatro si alza il sipario nella stazione ferroviaria cultura il negazionismo dell'olocausto nega che questa verità sia mai esistita che gli ebrei siano stati vittimi di deportazione si parla di questo con lo spettacolo che appunto ricorda il dramma dell'olocausto dell'olocausto contro gli ebrei da caserta apriamo la pagina di salerno completiamo la panoramica provinciale stop alunni evasori ecco il piano fondi antidispersione destinati a 28 scuole progetti anche per gli immigrati colpo di acceleratore sulle risorse destinate a programmi di inclusione sociale pressing del direttore regionale franzese mamma attacchi giudici ridatemi mia figlia la storia di giudiziaria la ragazzina è stata data in adozione dopo l'affidamento ad una comunità la donna scrive al tribunale ora posso mantenerla dovete ridarmela e scatta la guerra fotone centrale dedicato ne abbiamo parlato ieri sera nel TG ai rom sfrattati il rifugio abusivo nell'ex ostello vedete come avevano ridotto la struttura questi rom che si erano abusivamente insediati nella struttura soprattutto adesso il proprietario dovrà bloccare gli accessi appunto ai varchi d'ingresso nella struttura per evitare un nuovo insediamento coatto ma dai giornali cartacei ci spostiamo sulla informazione in tempo reale quella online apriamo il portale di ottopagine.it c'è l'aggiornamento su Imma uccisa dall'ex ancora nessuna traccia di suo marito Pasquale Vitiello e si cerca appunto nelle campagne quindi si trattano di elementi che dovranno essere verificati come la lettera in cui diceva voglio farmi giustizio da me vediamone insieme un passaggio ho subito un torto lei ha sbagliato l'unica cosa è farsi giustizia da soli avrebbe scritto l'uomo poche parole che racchiuderebbero al loro interno l'intento omicida di questo uomo che pare si sentisse ferito dal fatto che la donna avesse avviato una relazione con un altro uomo semplice ipotesi al vaio degli inquirenti per ricostruire il quadro indiziario che potrebbe spiegare una dinamica di famiglia esasperata andiamo avanti cento anni alla festa del papà i tre record di nonno Giuseppe San Giorgio la Molara celebra l'onomastico centenario alla presenza di cinque generazioni una storia che ieri ha raccolto la collega in ma tedesco per vedere appunto la storia di questo papà speciale questo nonno speciale bisnonno speciale che ha festeggiato nel giorno della festa del papà questo favoloso traguardo vedete una storia davvero bella premiata dalla targa del sindaco qualche fotogallerie anche con tutta la sua famiglia così numerosa che ha festeggiato in una maniera più bella la festa di San Giuseppe di papà appunto e nonno Giuseppe e con questa bella notizia chiudiamo la rassegna stampa di 696 TV vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione alle 11 con il touch di 8pagine.it augurandovi una buona giornata vi auguro di proseguirla su 696 TV grazie a tutti